Sabato 11 novembre 2023 alle ore 14.30 live su YouTube Giocherò esclusivamente a World of Warships Nell'ultimo video della Cristoforo Colombo avevo detto che appunto al raggiungimento di un determinato numero di mi piace avrei fatto la live Quindi eccoci qua, sabato alle ore 14.30 Cosa andiamo a vedere oggi? Beh è da un po' che non lancio dei siluri su World of Warships e quindi andremo a vedere lo Yamagiri Super cacciatore periniere giapponese pronto nel porto del Black Friday Vi ricordo che sono ancora disponibili le navi e i container appunto del Black Friday Tutto nell'armeria Molto rapidamente andiamo a mettere tutto quello che il gioco suggerisce Tranne in questa slot lui dice protezione sulla macchina io ti dico, vi dico, vi consiglio Fate come volete Sovralimentazione modificata più 30% la durata Tutte le bandierine quelle che vedete Il Yamamoto e il Soroku Importante fino a un certo punto Importante perché comunque con la prima kill uno consumabile in più E non è del tutto impossibile farla con un cacciatore periniere Anzi e poi con 5 kill seconda possibilità Mettiamo tutte le skill che vedete così Senza cambiare assolutamente nulla Vado Non metto sovrintendente perché quel consumabile in più sinceramente non sento l'esigenza per le mie necessità di gioco D'accordo? Quindi con 3 consumabili si può giocare tranquillamente Però se volete essere più sicuri levate rapido e silenzioso Mettete sovrintendente E poi potreste decidere di levare manutenzione preventiva per poi mettere anche velocità dei siluri Potreste fare questo ragionamento A voi la scelta Abbiamo essenzialmente l'integrità di 26.050 punti Artiglieria, cannoni da 127 Qui potrei parlare per ore Però mi limito a dire che i 127 giapponesi cacciatorpinieri sono dei cannoni fantastici Hanno una penetrazione molto buona Hanno un danno impeccabile 2150 con le HE E in più, attenzione, abbiamo la raffica Quindi una raffica In un secondo spariamo 3 raffiche D'accordo? Che fanno male Ideale per distruggere nemici con poca vita Siluri Qui abbiamo una scelta Una scelta Ovvero mettere la combinazione 8 km e 20 km La combinazione che utilizzo io Oppure mettere la combinazione 12 km e 20 km Poi decidete voi cosa utilizzare Cariche di profondità per attaccare i sommergibili Danno molto interessante Con molte bombe in una carica Difesa contro aerea 142.060 con 3 esplosioni a 5.8 Manovrabilità Una nave davvero fantastica 41.5 base Con boost, sovralimentazione e skill Arriverete a oltre 48 nodi Pazzesco Mimetizzazione Veniamo spottati solo a 5.6 km Quindi ragazzi Un caccia d'orpeniere perfetto Per non farsi vedere Per quanto riguarda la mimetica Non c'è grande scelta Come al solito Io metto questa qui Perché ritengo che sia più bella Rispetto all'altra disponibile Ultimissima cosa da dire Andiamo in partita Bonus economici Sono tutti quelli blu Però non ho il pacchetto D'accordo Il pacchetto Costa 4800 E dà quei bonus Per il nostro Yamagiri Ragazzi Mi raccomando Tra l'altro Se questi contenuti Sono di vostro interesse Iscrivetevi al canale Commentate Condividete Se volete provare il gioco Completamente gratuito Come sempre Trovate il link Nella descrizione Del video Con alcuni vantaggi Mi piace D'obbligo Se appunto Apprezzate E volete supportare Il mio lavoro Andiamo in partita Va Andiamo a giocare una partita Con il nostro Super Cacciator penieri Siamo in una mappa Tridente Modelare Supremazia 4 corazzate 5 incrociatori 2 cacciator penieri Un sommergibile Allora Prima cosa da fare Cioè proprio Concettualmente parlando State giocando Il cacciator penieri Disattivate l'antiaerea Appena inizia la partita Subito boost Qualsiasi cosa State facendo Interrompete Ogni pensiero Ogni Ok Subito boost Per arrivare Quanto prima Nella zona Di vostro interesse Non entrate In cap Che tra l'altro Il cap Scusate C'è stato un aggiornamento In qualcosa Perché non viene indicato Con alfa bravo E charlie E' un po' inquietante Come cosa Devo essere sincero So che c'era L'aggiornamento C'era la La patch Oggi D'accordo Però Balau Meravigliau Orario di Riconnettersi La partita iniziata Non perdiamo tempo Cioè La famosa chiamata Che ha ricevuto Ok Quindi cosa facciamo Essenzialmente Ci allarghiamo E lanciamo i siluri Chi può darci fastidio Tutte le navi Ovviamente tutte le navi Il pedro e il radar Lo stenoci massacra Il minotauro e il radar Infinito Lo Yamagiri E lo Shimagaze Hanno La barba Non so se continuate A farla crescere Forse La taglierò a breve E quindi Dobbiamo fare attenzione A queste navi D'accordo C'è già Il sommergibile Qua Perché sta lanciando Il ping Insomma Dobbiamo fare attenzione Anche al sommergibile Il 2501 Il tedesco Molto pericoloso Mi piace molto La linea Degli U-Bot Notoriamente Pericolosi Forse sto Un po' troppo Sotto l'isola Sto Sì 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 Lo so Lo so Subito fumo Perché se vado Ancora avanti Nel tentativo Di fare la virata Mi prendo Le valanghe Di danni Sono andato Troppo avanti Lo sai Eh fra Ho sbagliato Non dovevo fare Troppo avanti Va bene Va bene Ancora non è successo niente L'importante è che La nave non venga distrutta Quindi Siamo ancora operati Va benissimo Poi balao Allora qua Subito via Sì non so perché Stavano un po' troppo vicino Un fumo Questo fumo Sprecato Non mi piace Però è obbligatorio Per salvarmi la pelle Perché lui probabilmente Sta pushando L'Austin Potrei anche Potrebbe fare un po' Da trappola Della serie Avanza Avanza Non succede nulla Poi tac Capito Ti prendi Prendi i colpi Va benissimo Va benissimo Eh fra Però non ti devi far vedere Sommergibile che si fa vedere Flancatina Ah ma lei si mette proprio così Io gli rilancio tutti Diamo a giri Stava là Abbiamo perso Cosa Lei What Perché lei Perché lei in denburgo Stava qua dentro Aspetta Forse sa qualcosa Che io non so A volte rimango interdetto Rimango senza parole Quando vedo queste cose Perché si è messo là Vabbè Lost in abbiamo capito Che non è fattibile Senti io Provo a intercettarti Vediamo se riesco a leggere Il movimento Adesso buttiamoci in cap Ora che abbiamo il quadro completo Comparable È pastidiosa come nave Andalusia Vuole tankare Quello che non può Comunque rimane spottato Lost in Per merito del sommergibile Sbarra a merito mio Quindi Va bene Mettiamo i soluri Veloci Sinistra Vediamo lui cosa fa Diciamo che dovrebbe vincere facile La Shifflen Però Non diamo mai nulla per scontato Va bene così Se la sta giocando bene Quasi spottato di noi Non fa nulla Va benissimo Qualche carica perché No vabbè Il sommergibile sta più Da quella parte D'accordo D'accordo Super massacrato Vabbè Poteva arrivare la kill Ma Vediamo se Vediamo una mano ulteriore Ovviamente no Arrivano i siluri E direi che è la parola fine Bravo 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 Mi viene da ridere Sta qua lui Non riesco a Non la posso fare Sta cosa Annaggia la miseria Lo so che sta là Lo so che Non è che non lo so Non è che non lo so Fra Non è che non lo so Ah Che rabbia Bella questa È abbastanza Su cosa Sul pedro Uffa Non avevo la raffica Eh vabbè Dai ma ci addormentiamo Non avevo la raffica Non avevo la raffica Non avevo la raffica Vabbè Ci stiamo Sta partita Ci stiamo Ci stiamo addormentando Miseria Potevamo fare 100.000 kill È rimasto quanto 2007 2050 2007 Ma che cavolo È un gioco Le cariche Le cariche Le cariche Non le può chiamare nessuno Va bene Va benissimo Grazie Complimenti C'è ancora C'è ancora un ebook E un Se dovesse però lui Emergere Magari Eh no ma c'è abbastanza carica Da non emergere Fra Però così me ne regali Però così me ne regali Fermo Fermo A zero A zero Eccolo 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 Mi devo levare Mi devo levare subito Dalla Miseria Quanto fa male Miseria Quanto fa male Miseria Quanto fa male Quella nave Con le sap Ma massacrato Guarda là che mi ha combinato Eh non potevo fare niente O mi prendo la kill O non la prendo Non è che c'è C'è molto da pensare Dobbiamo fare Attenzione Signore Dobbiamo fare Attenzione Il cap non si prende Senti facciamo una cosa Prendiamoci bravo Veniamo dall'altra parte Perché qui la situa Non mi piace per niente Bravo Eh signori Sono quei devastanti Che cambiano la partita Possiamo dirlo Sono quei colpi Che cambiano la partita Io continuo a lanciare Siluri Come vedete Questa nave È abbastanza Ignorante Da giocare Nel senso Prendi e lanci Siluri sempre Vogliamo semplificare In una maniera così Così Totale Cioè lanciamo i siluri Per la legge dei grandi numeri Qualcosa colpiamo Sì potremmo anche farlo Però Magari non mi sembra poi Del tutto il caso Il sommergibile In realtà qui il cap No Io ho pochissima vita Quindi se vengo spottato Non mi va di subire C'è la scimagazza Anche che è tornata Potrei andare esattamente Dall'altra parte Per la patrie La situazione non mi sembra Malvagia Così facendo Considerate che noi abbiamo fatto Un devastante Sul diretto concorrente Avversario Lo Yamagiri Nemico Quindi già quello Qui il 2000 base L'abbiamo preso ad occhi chiusi Dobbiamo capire Se Io qua Due siluri Però scima Magari ti vado ad incrociare O anche la patrie Ti lancio Dispiace non aver preso Il cap E la kill Vabbè Potremmo fare qualcosa in più La verità 88.000 danni Sono relativamente pochi L'incompanable A un certo punto Ha pensato di poter Pushare Ma non avrebbe mai vinto Nello scontro Contro la Shiflen Cioè Capisco che hai dei cannoni Molto buoni Shifle E coso Però Cioè No Ma anche no Incompanable Non è che vengo spottato Dalla scima Vero Io due siluri altri Gli voglio lanciare A questo Molto anticipo A meno che poi Non vada a virare Se qua a sinistra E lì non posso fare niente Vediamo cosa succede Il cap Ragazzi Il cap Che non ho preso Mi è rimasto Proprio un Un dispiacere enorme Veramente Credetemi Vediamo se riesco A spottare la Shimagazze Però qua me la rischio Perché ho solo 5.000 Quel Quel cosa Mi ha fatto malissimo Il Come si chiama La Come mi viene Lo sting Penso proprio Ma abbiamo messo il fumo Sì E sta andando a sinistra Come avevo preventivato Lo sapevo Non è che ha lanciato I siluri la scima In questo caso Dovevo indietreggiare E vabbè Quase Tecnicamente Cioè Noi dovremmo pensare A ogni possibile Cioè Che cosa può succedere La Shimagazza Ha lanciato i siluri Prima di morire Se sì Dove Avanti Dietro Centrale Quindi se tu vai indietro Hai una possibilità Su tre Essenzialmente Di beccarti i siluri Io adesso Li continuo a lanciare Perché la partita Sta per finire Quindi Eventualmente La ZA Dovesse passare Ma non penso Ultimi danni Se arrivano Mancata Manca Se mancate Perfetto Complimenti E vabbè Per una Abbiamo fatto Il Kraken Però va bene così Sette siluri Abbiamo visto Abbiamo visto Un po' Di cannoni Abbiamo visto Chi non dobbiamo Struzzecare Più del dovuto In questo caso Lostin Vabbè Lì ha attivato La ricarica E veramente Non potete fare nulla O Facevo la kill O mi rimanevo Sicuro A quel punto Mi prendo la kill E me la rischio Cercando di fare Destra e sinistra Per evitare i colpi Insomma Dovete sempre Valutare Caso per caso Come dico sempre Forse la Iate Esatto Muore È impossibile Fare il Kraken No E come faccio qua C'è poco tempo No Non si può fare L'ultimo colpo Con la raffica 9 secondi No Raffica E via Dai Raffica E via Detonazione Ti immagini Gli ultimi danni A un certo punto Era rimasto a 600 Dovevano ancora cadere Gli ultimi colpi miei No vabbè Sarebbe stato il colmo Dei colmi Solo 93 mila danni Però voi direte Vabbè 93 mila danni Che saranno mai 93 mila danni Eh però Abbiamo distrutto A fortuna Il cacciatore Piediniere avversario Abbiamo distrutto Il sommergibile Volevo farlo con le cariche Ma non abbiamo avuto modo Abbiamo salvato L'incomparable La shifle Nell'incomparable E poi che abbiamo distrutto più Vabbè la shimakaze era facile Perché aveva pochi Pochi punti di vita No in realtà Non l'abbiamo fatto tanto Perché ci manca il cap Lo sai E' il cap che dava Quella spinta di più Nel punteggio No non abbiamo fatto Chissà cosa Sai che è a rischio Anche il 2000 Però il devastante Mi tiene su Mi tiene sul devastante Col devastante Sullo Yamagiri Avversario Penso che era full Allora il 2000 Me lo paga sicuro Ma solo perché Abbiamo fatto questo devastante 2100 No 1978 Signori Qui il balao Ci ha letteralmente fregato Si è connesso dopo Però il balao Il balao Si deve Deve prendere più uno Eh quando è giusto È giusto Bravo E che cosa ha combinato Il balao Per fare il 2100 Ha preso il cap Ha fatto male a chi Comparable Non mi capacito Come sia arrivato primo La Satsuma brava Lindenburg Sinceramente Gli do il meno uno Semplicemente perché Era fuori posizione Ma proprio Ma anche no Noi abbiamo fatto male Allo Yamagiri Con 26.050 punti Quindi un siluro vagante L'abbiamo preso in pieno L'ha sentito Ed è andato giù Ed è fantastico Crediti Levate le varie spese Portiamo a casa 510.000 Senza Il premium Saremmo andati in positivo Con 200.000 Crediti Al netto Dei modificatori Allora Cos'altro Dobbiamo dire Per quanto riguarda La nave Che essenzialmente È È una nave Ignorante Al punto giusto Perché Come logica È facile Cioè Rimango nascosto Lancio i siluri E quando riesco Sparo E do raffica O direttamente Raffica Se ha poca vita O ancora Sparo Laddove possibile Perché abbiamo Dei cannoni Che fanno male 2150 punti Lo ripeto ancora una volta Non sono dei cannoni Gli ultimi Capito Degli scarti I siluri Sono 18 Quindi per la legge Dei grandi numeri Se la nave Nemica Sta avvirando Ok Sta a sinistra E vedete Che inizia ad andare A destra Perché da nessun'altra Parte può andare Iniziate a lanciare Magari qualche siluro Magari lo andrete Ad incrociare Se volete Una giocata Più sicura Tra virgolette Mettete i siluri Più rapidi A una distanza Ravvicinata Però in quel caso Dovete Vedere Se si può fare D'accordo I 20 km di siluri Vi danno quella sicurezza Rispetto A una posizione Magari dove c'è un radar Dove c'è la portaerei Quindi non siete obbligati Ad andare troppo sotto All'avversario Cosa negativa Però vengono spottati A una distanza maggiore Non potete avere tutto Ora noi qua Andiamo a fare Giusto una Vediamo se mi da Un super container E vi lascio ancora Qualche secondo Per schiarirvi Le idee No niente Per schiarirvi le idee Rispetto allo Yamagiri Lo volete prendere O non lo volete prendere L'avete preso O non lo avete preso Che se lo rimettete O che Come lo giocate Fatemi sapere Nei commenti Io direi che Per oggi È tutto Ragazzi Vi ho terminato Io come sempre Vi ringrazio per like I commenti Le visualizzazioni No come sempre Ci vediamo Con un prossimo gameplay Ciao 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 Grazie per la visione!